Ancora in primo piano il radar militare di Potenza Picena ha sospettato di essere all'origine di alcune patologie presenti nella popolazione locale. L'associazione Città Prestata chiede lo spegnimento dell'impianto, l'aeronautica rassicura, non c'è alcun pericolo per la salute e per la prima volta apre la porta alle nostre telecamere. Allora Loredana Cintioni andate a vedere. Una cupola bianca permeabile alle emissioni elettromagnetiche ma in grado di proteggere il piano di antenna. Si presenta così il nuovo radar militare che dovrebbe entrare in funzione entro la prossima estate. Per la prima volta l'aeronautica consente la visita all'interno della sede della squadriglia ma le telecamere si devono fermare all'ingresso della cupola. All'interno un vasto spazio con un grande basamento sul quale sorge il nuovo radar che opererà con una potenza inferiore a quello vecchio. E' invece operativo da circa una settimana il nuovo sistema di misurazione del campo elettromagnetico. Un problema questo da sempre all'attenzione dell'opinione pubblica. Che cosa rispondete alle preoccupazioni dei cittadini? Sondiamo che l'aeronautica militare è sicuramente attenta alla salute della cittadinanza e alla salute dei lavoratori professionalmente esposti. E a tal proposito, oltre alle naturali e normali misure di cautela e tutela della salute, è stato installato un sistema di monitoraggio per il controllo delle emissioni elettromagnetiche qui sul sito di Potenza Picena. E' quel sistema che puoi vedere lì, da quella parte. E poi è un nuovo sistema? Assolutamente sì, innovativo. È per la prima volta installato su un sito della difesa aerea, dell'aeronautica militare. Ci sono già i primi dati disponibili? Allora, al momento il sistema è in collaudo. È stato installato e operativo. Entro la fine di questo mese saranno disponibili i dati di monitoraggio dei vari apparati e quindi le varie emissioni elettromagnetiche e resi disponibili alle varie istituzioni di controllo, quali l'ARPAM, il Comune, la stessa cittadinanza potrà averne disponibilità in totale trasparenza. L'ultima indagine epidemiologica dell'ARPAM non aveva rilevato particolari criticità, ma i risultati non hanno convinto tutti. Noi non ci sentiamo rassicurati perché fino ad oggi sia l'aeronautica che l'ARPAM ci hanno sempre rassicurato sul rispetto dei limiti di legge. L'ARPAM non ha sciolto i dubbi in merito alle nostre preoccupazioni, infatti anche nella sua conclusione afferma che la sua valutazione non è risolutiva a dissolvere le preoccupazioni nella popolazione.